Siamo pronti, Danila che sta favorendo un collegamento per l'esattezza. Buongiorno, bentrovati! Buongiorno! Pensavo che Danila avrebbe fatto le vostre veci, ma invece no. Abbiamo con noi i fautori di questo progetto bellissimo che è già iniziato, vero Cortinopera? Sì, in realtà sta per iniziare perché stamattina abbiamo il primo dei tre mattine con i bambini e i ragazzi delle scuole della città che vedranno alcuni cortometraggi accompagnati poi da un momento di dibattito. Perfetto, intanto diamo le coordinate dove ci troviamo, da che giorno a che giorno si svilupperà questo bellissimo evento. Tra l'altro ci stiamo facendo supportare anche dal sito ufficiale per comunicarlo a quanti ci seguono. E che cos'è Cortinopera? Vabbè, ci troviamo a Lucera. Poi magari che cos'è lo facciamo dire a Marco, visto che è lui il direttore artistico, io mi occupo invece della parte organizzativa. Ci troviamo a Lucera, al Cineteatro dell'Opera. Ed è la sesta edizione di Cortinopera, questo festival di cortometraggi che è nato un po' così, da un'idea malsana che abbiamo avuto un po' di anni fa. Perché? Perché volevamo coinvolgere questo mondo del piccolo cinema, inteso come durata ma non come importanza. Perché i contenuti che stiamo proponendo nelle varie edizioni sono stati importanti e hanno coinvolto i bambini. Ed è questa la cosa principale, io parlo sempre di questo, mettere a disposizione una sala cinematografica. Per le nuove generazioni è sempre un punto di partenza, non solo per il settore del cinema, ma soprattutto per la crescita della nostra città di Lucera e allargando un pochettino la veduta anche della comunità intera dei Monti d'Aui. Poi per il resto, insomma, quello che è Cortinopera può dirlo bene Marco, perché poi è stato lui l'ideatore e l'organizzatore artistico di tutto. Allora a te la parola Marco. Il festival si svolgerà dall'8 fino all'11 di maggio e come dicevo prima ci saranno tre mattine con i ragazzi e poi due serate aperte a tutti. Il venerdì 10 c'è la grande novità di questa edizione, ci sarà una mostra con opere inedite dell'artista Giuseppe Petrilli e poi la sera del 12 maggio avremo la serata conclusiva che poi è l'appuntamento a cui parteciperanno tutti, quello a cui tutti sono un po' abituati, in cui ci sarà la polizia di tutti i corti selezionati e poi soprattutto l'incontro con gli autori dei corti. Bene, il tempo, le previsioni meteo influiranno sulla manifestazione oppure no? È tutto al coperto o c'è qualche manifestazione anche all'aperto? No, fondamentalmente è tutto al coperto, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza sereni. L'unica cosa che noi facciamo in qualche modo all'aperto è il convivio, la parte di Capitanata Food & Wine che è l'appuntamento di chiusura a seguire proprio dopo le premiazioni della serata finale che ci vede gustare insieme, ma più che altro come momento di condivisione di quelle che sono state le emozioni per fare un po' la sintesi delle emozioni che Corti in Opera ogni anno lascia ai presenti e quindi all'interno del cortile della nostra sala cinematografica ci vediamo con i registi, con il pubblico, con le varie autorità presenti per scambiare due chiacchiere davanti a un piatto d'orecchiette che non fa mai male un bicchiere di vino. Quindi niente, la cultura, l'arte, la gastronomia è un insieme di emozioni che ci prende dal primo giorno quando arrivano qui i primi bambini fino all'ultimo, quando ci beviamo l'ultimo bicchiere di vino che un po' ci fa scaricare tutta la tensione accumulata nei vari giorni. Molto bene, allora appuntamento a Lucera dall'8 all'11 maggio per Corti in Opera Collegatevi al sito cortiinopera.it per andare a spulciare il programma e attingere a tutte le notizie utili Io vi ringrazio per essere stati con noi stamattina al taglio del nastro di questa sesta edizione I canali social sono sicuramente più prestanti dove è possibile anche recuperare le notizie degli appuntamenti, delle prevendite, le location sui nostri livelli sono più interattivi rispetto al sito quindi chi volesse in qualche modo agganciarci in maniera più semplice sui social lo fa in maniera piena Corti in Opera del resto è un nome... Proverà anche indicazioni per le prevendite presso Kublai oppure presso la nostra biglietteria Corti in Opera è un nome che entra subito per cui anche sui social sarà semplice trovarvi Noi vi auguriamo buon lavoro e buona sesta edizione e invitiamo tutti a raggiungervi a Lucera Grazie mille, buon proseguimento